Grazie Presidente. Il mondo intero ci sta guardando mentre si susseguono allarmi su intelligenza artificiale generale, rischio di estinzione della razza umana ad opera di algoritmi senzienti, allarmi spesso lanciati dalle stesse big tech che temono quello che hanno creato, l'Europa nel frattempo è andata avanti senza fermarsi e negli scorsi mesi ha lavorato alacremente per proporre una risposta concreta ai rischi che già esistono, non quelli futuribili, di tecnologie potenti come l'intelligenza artificiale. Ci dicevano così frenerete l'innovazione, così l'Europa non sarà mai competitiva, mentre invece oggi molti di questi stessi ci danno ragione. Le regole sono necessarie. Oggi quindi siamo qui a chiedere al Parlamento il mandato per avviare i negoziati sulla prima legge al mondo in materia. La nostra posizione contiene molti miglioramenti alla proposta della Commissione che chiariscono e aggiornano il testo, promuovono certezza giuridica, evitano le duplicazioni con le leggi esistenti, stimolano l'innovazione, mantenendo però come punto fermo l'essere umano e i suoi diritti fondamentali. Esso deve rimanere il centro dell'approccio europeo all'intelligenza artificiale. Cito solo alcuni dei punti chiave della nostra proposta. Una definizione chiara ed equilibrata, in linea con il lavoro delle organizzazioni internazionali. Un capitolo per regolamentare sistemi come CiaGPT, prima esclusi dal testo, per ottenere trasparenza e mitigare i rischi di discriminazione e di generazione di contenuti illegali. Oltre al watermarking, per rendere identificabili i contenuti prodotti da IA generativa, che seppure già previsto di fatto dall'articolo 52, penso andrà ancora più chiaramente specificato in sede di Trilogo. Ma non abbiamo neanche dimenticato i rischi per l'ambiente nell'allenare gli algoritmi con miliardi di dati e parametri. Abbiamo introdotto l'obbligo per le aziende e per le autorità pubbliche che usano un'intelligenza artificiale ad alto rischio di effettuare una valutazione di impatto sui diritti fondamentali, in base al contesto specifico di uso, come ulteriore salvaguardia per i gruppi vulnerabili. Vanno inoltre ricordati l'aggiunta del diritto a un rimedio giudiziario, a una spiegazione, a essere rappresentati da un'azione collettiva in caso di impatto negativo sulla salute, sulla sicurezza o sui propri diritti fondamentali. E l'aggiunta dell'ambiente, della democrazia e dello Stato di diritto fa gli obiettivi da proteggere. Oltre all'obbligo di discutere la messa in uso di un'intelligenza artificiale sul posto di lavoro con i sindacati e di informare i lavoratori coinvolti, oltre all'espansione delle pratiche considerate inaccettabili, come la prolizia predittiva, la categorizzazione biometrica, la raccolta indiscriminata di immagini facciali dal web, il riconoscimento emotivo in alcuni contesti e l'opposizione all'uso del riconoscimento biometrico negli spazi pubblici a finalità di sorveglianza. L'uso di queste telecamere non ha nessun beneficio provato sulla sicurezza dei cittadini, mentre sono provati i rischi di abuso, discriminazione e inaccuratezza, soprattutto su alcune persone, donne, persone non bianche, bambini. L'introduzione di queste tecnologie presenta rischi per la tenuta dei nostri Paesi, per la sua tenuta democratica e per questo ci batteremo con il Consiglio nei prossimi mesi per difendere questo approccio e contrastare pericoli per la nostra libertà. Penso alle parole preoccupanti di alcuni ministri degli interni, compreso quello italiano piantedosi. Vogliamo che l'intelligenza artificiale dispieghi tutto il suo potenziale positivo per la creatività, la produttività e il miglioramento della vita quotidiana. Per questo ci siamo impegnati anche in un intenso lavoro di confronto con i legislatori di tutto il mondo, perché si trovino approcci comuni. Per questo sosteniamo il lavoro sull'AI PACT, per anticipare gli effetti del regolamento, e dell'AI Code of Conduct, per l'intelligenza artificiale generativa. Ma poniamo anche un chiaro monito. Tutte le attività di avvicinamento e di adattamento sono utili, a patto che non pensino di sostituire le regole vincolanti che andremo a stabilire. Non ci faremo influenzare da tentativi che potrebbero arrivare da grandi imprese o istituzioni governative non per diluire e indebolire questo sforzo di rendere più forti le nostre democrazie nel contesto della trasformazione tecnologica. Faremo del nostro meglio nell'interesse degli europei, insieme alla Commissione, che ringrazio, insieme al Consiglio e insieme a tutti i colleghi. Grazie mille.